Anche perché mi è capitato, onorevoli colleghi, una cosa che non auguro mi capiti più e auguro non capiti a nessuno. Io sono stato in un freddo anga di anche Dusa. Onorevole Buonanno, la richiamo all'ordine! La richiamo all'ordine per la seconda volta! Scusi, ma anche... Sì! Onorevole, scusate, presidente, 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 mi scusi. Presidente, mi scusi. Onorevole Prataviera, la richiamo all'ordine. Mi è capitato un qualcosa che mai avrei pensato potesse verificarsi nella vita. Mi è capitato di entrare in un freddo hangar di un aeroporto vedendo 90 corpi dentro 90 sacchi e vedendo una bambina appesa al corpo della madre in un sacco in cui ce n'erano due. Mi sono ripromesso di far di tutto per vedere quei sacchi pieni di morti e al tempo stesso di garantire la sicurezza nelle nostre città. Onorevole Prataviera! Bragantini! Onorevole Prataviera, la richiamo all'ordine per la seconda volta! La espello dall'aula, onorevole Prataviera, la espello dall'aula! Fuori! La invito ad uscire, onorevole Prataviera, esca dall'aula! Esca dall'aula! La invito ad uscire! I questori intervengano, per favore! Onorevole Prataviera, esca dall'aula! Onorevole Allasia, la richiamo all'ordine! La richiamo all'ordine! Onorevole Prataviera, esca dall'aula! Io sospendo la seduta, se l'onorevole Prataviera non esce dall'aula! Esca dall'aula! La seduta è sospesa!